bentornati oggi su richiesta di alcuni collezionisti torno a parlare degli inserti o allegati chiamateli come volete inseriti nella serie zenith l'ultima volta che abbiamo parlato di questo accorrimito abbiamo visto il numero 150 se non mi ricordo male la rabbia degli osages oggi voglio farvi vedere la stazione d'arco del numero 266 del giugno controlliamo giugno 83 esatto questo ragazzi per i puristi per chi cerca gli abbi in modo originale nel senso con gli allegati con gli inserti blisterati eccetera e l'ultimo zagor con un inserto all'interno non come quello che abbiamo visto l'ultima volta che era uno fuscolino ma un inserto incollato all'interno dello zenith successivamente poi a parte il giornale sergio bonelli che arrivava annualmente come presentazione dei poi tra l'altro lo vedremo nei prossimi filmati della pubblicità dei volumi estivi o invernali se non mi ricordo male comunque li vedremo non è stato più inserito niente soltanto negli ultimi anni diciamo ai giorni nostri per farvi capire è stato inserito il poster incollato dentro poi non ci sono stati più allegati incollati all'interno dello zenith ok diamo un'occhiata velocemente a questo inserto che pubblicizzava il nuovo settimanale full a pagina 34 ci sono quattro pagine eccolo qua ci sono quattro pagine che presentano questo nuovo settimanale che usciva proprio in quei giorni uscita maggio e giugno infatti vediamo la pubblicità nell'ultima pagina di questo inserto che dice uscita 20 maggio quindi era proprio appena uscito praticamente per il gioco della della rimedicola questo zaga usci qualche giorno dopo e con la copertina del primo numero all'interno c'era appunto la presentazione di cosa sarebbe cosa avrebbero trovato i lettori in questa rivista in questo settimanale e alcuni personaggi come caimano pacca guerra sparrow e sharon shade furono presentati come come i personaggi che avrebbero fatto parte di questa serie non non mi ricordo molto della rivista di questa settimanale full quanto è durato come è andato non lo so ragazzi quindi non vi voglio le informazioni fatto sta che all'interno di questo zagor c'era questo inserto incollato tra alla pagina 34 da notare una cosa curiosa che e quando finisce le pagine continuano con la numerazione quindi la 43 quindi hanno numerato anche queste pagine come se fossero parte della storia e l'albo finisce con il numero con la pagina 106 ok ragazzi allora questo è l'ultimo inserto escluso il giornale di sergio bonelli che è stato inserito nella collana zenith nel numero 266 la stazione di darkwood successivamente ripeto poi li vedremo a giorni nostri c'è stato il poster poi vedremo in che numero e come inserito ma si parla di 30 40 anni dopo praticamente si 30 e qualcosa se non sbaglio ok ragazzi da stazione di darkwood l'ultimo numero zenith con un inserto incollato all'interno pubblicità della rivista full buona giornata a tutti